Benvenuti in Accademia Laped. Siamo qui con un ospite speciale da Miami, Marianna, e vi spiegherà che cosa accade oggi. Ciao a tutti, sono qui da Cape Garden, Miami, e stiamo studiando e imparando i nuovi prodotti con grande qualità da Laped, Italy. Siamo portati a voi inizialmente, quindi guardate per loro e siete iniziali! Ciao! Grazie!